Francesca Neri, Percio Radio, abbiamo appena assistito alla proiezione del papà di Giovanni Nelto I a Bologna, il suo è il portaggio della personalità più complessa, una donna che non accetta un modello familiare di tipo patriarcale, un sistema sociale e politico che vuole la donna costretta ai margini e che nonostante ciò assolve alle sue responsabilità di moglie e di madre. Eh sì, questa è la grande scommessa forse del mio personaggio, quello comunque di dare un'umanità a un personaggio che sulla carta probabilmente non ce l'ha o è molto più comodo, più facile giudicarla dall'esterno, invece ovviamente sì, sicuramente questo personaggio ha le sue ragioni, le ha avute e all'interno di una relazione così stretta tra padre e figlia, la cosa più difficile probabilmente è non solo intervenire, ma nel momento stesso di un fatto così drammatico che è poi il centro del film, un evento così drammatico, questo a lei non permette di decompertarsi tra virgolette come tutti vorrebbero e addirittura si allontana, non ha gli strumenti probabilmente per stare vicino alla figlia. Un personaggio che prima dalla rivoluzionalità, prima d'or niente che poi invece emerge, emerge quando abbraccia i valori della resistenza e non fa compromessi, non ha pietà neanche nel non far condannare, non dice niente quando il tribunale improvvisato condanna il personaggio di Ezio Greggio alla fucilazione magari troppo frettolosa. Anche quella è stata una cosa di cui ho parlato molto perché in sceneggiatura lei in quella scena sarebbe dovuta intervenire nel senso che comunque, invece poi effettivamente girando il film abbiamo capito che la cosa migliore era che comunque lei non intervenisse, sicuramente anche in questo caso soffre da una parte perché comunque stanno fucilando l'uomo con quale lei ha deciso di stare, però dall'altra parte appunto c'è una sua integrità che piano piano viene fuori e alla fine lei è coerente a questa. Esatto, per concludere è un personaggio tutt'altro che dimesso. Beh sì, direi che ti ringrazio di questo. Grazie a te, ciao. Grazie a te, ciao. Grazie a tutti.